che pasticcio ma com'è possibile è proprio proprio una quaresima che non finisce più lunga come questo gomitolo tutto intrecciato cari amici fratelli sorelle e tutti quanti quelli che ci vogliono bene i miei più grandi e affettuosi auguri buona festa di pasqua il signore risplenda anche per voi con la sua luce e con la sua speranza in un mondo migliore qualche mese fa se vi ricordate la festa di settembre ci siamo trovati qua per condividere l'eucaristia tutti insieme il mio augurio di speranza è proprio questo di poterci trovare ancora insieme per celebrare l'eucaristia per scambiarci gli abbracci se non proprio con le mani ma attraverso un sorriso attraverso uno sguardo amichevole buona pasqua di speranza a tutti i volontari e a nome di tutti i volontari a tutti gli amici buongiorno a tutti sto leggendo il giornale e vedo che ci sono sempre notizie negative che scoraggiano tutte notizie che danno un senso di tristezza e che fanno perdere anche il buon umore però la pasqua è vicina e Cristo risorto ci invita a guardare in alto a sperare e allora io vi auguro buona pasqua di risurrezione e che la speranza non venga mai meno nella nostra vita e nelle famiglie buona pasqua è difficile in due sai è impossibile penso che abbiamo davvero bisogno di aiuto carissimi vi auguro buona pasqua una pasqua di speranza di gioia tantissimi auguri a voi in questa pasqua vi auguriamo cari amici che il signore versi nei vostri cuori un tempo più sereno e la speranza di una vita migliore buona pasqua cari amici e amiche da parte di tutti noi del Duma dell'associazione diamo una mano auguriamo di cuore buona pasqua porto gli auguri anche dei nostri amici africani che sentiamo grazie alla tecnologia molto spesso e che con tanto impegno e fervore portano avanti i nostri progetti la pasqua il giorno di pasqua festeggiamo la risurrezione di cristo ed è grazie a questa grande vittoria che poi nasce la nostra speranza la speranza per tutti noi in un futuro migliore e in un mondo di fratellanza e di pace per questo vorrei di cuore augurare a tutti voi di diventare contagiosi contagiosi di speranza e di gioia di nuovo buona pasqua da noi del Duma Ciao Pasqua è tornata e con lei si rinnova la gioia, la speranza e la fratellanza ti auguro di trascorrere una Pasqua 2021 piena di amore e che possa essere per te una nuova rinascita piena di belle emozioni e grandi sentimenti Buona Pasqua 2021 Ciao A nome di tutto il gruppo dell'Allonlus dei mercatini volevo fare gli auguri intanto a tutte le signore che hanno sempre lavorato con tanto amore cura, dedizione e con tanta fantasia e ci hanno messo proprio il cuore e a tutte le persone che ci guardano volevo fare tanti auguri per una Pasqua di risurrezione Ciao a tutti Ciao ragazze La Società Missionaria della Scopa vi fa tanti auguri di buona Pasqua buona continuazione speriamo di vederci presto ok Ciao Ciao Buona Pasqua a tutti voi dal più profondo del mio cuore rallegriamoci restiamo gioiosi perché il Signore è vivo sempre in mezzo a noi ciao buona Pasqua è proprio un bel pasticcio qui proprio come tessitori siamo falliti o cosa dici? non c'è spazio alla tristezza in questo giorno rallegriamoci è la vita che distrugge ogni paura rallegriamoci che si compie in questo giorno la professa rallegriamoci ogni uomo non vedrà la salvezza di Dio ecco le parole di questo brano che vogliamo augurare da parte di tutto il coro Kairos buona Pasqua Cristo è risorto veramente risorto io vivo con Lui io vivo con Lui buona festa di Pasqua l'auguro che faccio a tutti voi cari amici e un arrivederci presto ciao a tutti un bacione cosa hai in mano? ma guarda guarda che meraviglia non è bellissimo? è la tessitura che è venuta fuori dai nostri figli? certo guarda che meraviglia te l'aspettavi? quando ci si mette tutti assieme si fanno grandi cose e quando è il Signore che tesse insieme a Lui possiamo andare ovunque quindi buona festa di Pasqua di risurrezione a tutte e a tutti buona festa a tutti i nostri amici auguri auguri